Bentornati, la Venture Peugeot è l'associazione fortemente voluta dalla famiglia Peugeot per unire tutti gli appassionati che sono interessati a mantenere e a far rivivere il patrimonio storico di Peugeot. Quest'anno sono arrivati alla 24esima edizione del raduno annuale che si è tenuto in Olanda. C'è stata un'importante partecipazione dell'Italia, come di consueto l'Italia è sempre molto presente in questi raduni dell'Aventure Peugeot e noi vediamo il tutto in questo prossimo servizio. Ci troviamo nei Paesi Bassi per il 24esimo raduno dell'Aventure Peugeot, con quasi 120 equipaggi, con Peugeot di ogni epoca. Circa 11 Paesi, molti Paesi europei, ma anche un rappresentante sudafricano, a dimostrazione della dimensione internazionale dell'Aventure Peugeot che continua la sua storia e continua l'avventura. Discover Heritage è il titolo quest'anno del raduno internazionale dell'Aventure Peugeot. L'Aventure Peugeot è la federazione di tutti i club europei che raggruppa gli appassionati del marco francese. Nel 2016 l'Aventure Peugeot ha organizzato il raduno internazionale a Osterbeck in Olanda, una bellissima località immersa nel verde dove i reali dell'Olanda hanno un bellissimo palazzo che risale al 1700. Partecipano più di 200 vetture di tutti i tipi. La più vecchia è una 172 quadrilette del 1924. Il club storico Peugeot ovviamente non poteva mancare a una simile kermesse. Ed ecco un gruppo di 11 equipaggi, 22 persone tra cui una famiglia con una mascotte di 9 anni, hanno preso la strada, 2000 km per andare in Olanda e ritornare attraverso la Germania all'andata e la Francia al ritorno. Un bellissimo viaggio con queste vetture storiche.